vediamo vediamo ancora niente mi sa eccola la live ok se avete detto qualcosa ripetetelo perché non l'ho letto ovviamente ora ci sono bello contento e vediamo un po' che si fa stasera va bene ora niente continuo a non farmi leggere la chat sei rincoglionito per caso vediamo ora dovrebbe andare dove il mio Death Stranding ha io Death Stranding è fallito l'hanno bruciato non esiste più tu sei rincoglionito no non è vero comunque buonasera buonasera a che ti non sei sub comunque non ho capito perché anch'io non lo sono e quindi lo faccio adesso gli alert non esistono quindi niente perché so da PS4 non si può fare nulla buonasera stasera non so cosa facciamo però andiamo avanti a diritto proprio quindi le missioni che mi dice di fare le facciamo da solo perché non c'ho voglia di fare con altra gente dai a catty non dire bugie grazie per ah ok c'è ancora sta roba delle delle emot condivise pensavo fosse solo di Natale a erudami il culetto vediamo ora no ora non mi va un Diablos va bene semplice facile col cazzo per favore dopo adesso no ci sono quelli di San Valentino per un'altra decenni di giorni vai nel gruppo di Dari di che stai streamando no non mi va non mi va poi sembra troppo parassita no sono contento così oggi ti tocca restare visto che non ti potevi notare guarda dipende perché comunque volendo sempre grande amico Simone salutiamo dai andiamo no non li chiami i miei fidanzati Giuse non non è giusto è sbagliato moralmente no sto scherzando non ce lo voglio bene sta live non so quanto durerà sicuro un'ora ma potrebbe andare anche oltre in base a come mi gira perché da farmare c'è parecchio però mi dovete dire i volumi se vanno bene perché perché si non l'ho mai streamato quindi c'è da capire anche questo ho già mangiato e vabbè in ogni caso direi di abbassarlo un pochino poco 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 le cazzo eh eccolo ma giusto ciao ciao tatanka un po' altino il volume del gioco quindi facciamo 60 e vediamo la musica facciamo 55 perché 6 mi dà fastidio le voci mettiamo 50 adesso come va ditemi un po' anche se c'è da vedere quando ci sono i mostri che urlano e fanno le cazzate così è meglio vabbè lo abbassiamo un altro po' perché dei mostri non mi fido dato che è anche un diablos che urla come un bastardo facciamo il mio cane che abbaia contro le patatine facciamo tutto a 50 dai con la spadolunga sei veramente un uomo clemente ma anche il senso è proprio bella la spadolunga soprattutto non sono un povento nel tutto fondo davvero e ancora allora facciamo così parti il corno da caccia lo usi tu e nessun altro tatanka mi dispiace purtroppo devo darti questa terribile notizia non so se mi avete continuato a sentire spero di sì però comunque vediamo adesso se cambia qualcosa ehi ehi allora adesso deve essere tutto a posto non si dovrebbe sentire la ventola in sottofondo però dovrebbe essere un pochino più basso ditemi veloce fast facciamo questa adesso forse la sentite un attimo ma ora non più ditemi per favore mi sembra abbastanza uguale a prima ma anche senso perché io la sentivo bene sia santificato sia santificato sempre adesso vediamo così adesso come va adesso come va comanda auguri comanda auguri comanda auguri non cambiato comanda auguri non cambiato finita terminato e io non posso cambiarlo comunque ditemi adesso se si sente ancora che in caso ora sembra meglio però io sono più basso no? però anche il gioco dovrebbe essere più basso adesso che purtroppo più di così non posso fare cioè la ps4 è anche lontana quindi cioè veramente ciao man perché c'è io non lo sento il rumore della ps4 con l'orecchio quindi mi pare strano si senta il microfono con stadia non succederebbe a fanculo tu e stadia va bene comunque più di questo non posso fare mi dispiace però ho cambiato pure il microfono però a quanto pare la mia ps4 è troppo forte sono tipo bassissimo allora facciamo questo facciamo in questo modo voi dovete sentirla di meno e dovete sentirmi di più in teoria comunque non gioco a world da tipo mesi quindi non mi ricordo un cazzo della mappa ditemi quanto sentite ancora la ventola se si sente non ci posso fare nulla e ditemi se sono più alto soprattutto sembra un buon compromesso speriamo male male boh no ok molto meglio così va bene purtroppo la ps4 se n'è andata la ventola fa rumori non ci posso fare niente se non spaccarla però non mi conviene hai mangiato mi sembra che abbiano sì ho mangiato ma non mi ricordo cosa ho mangiato effettivamente però tutto a posto non ti preoccupare vediamo quanti hp c'è scritto 130 dai ci sta non sono a 200 però aprire la ps4 e togliere la ventola lo farei anche ma è un po' difficile devo ricordarmi dove è il diablos ma di solito eccolo questo lo carichiamo ricordiamoci che mostrante non lo tocco da mesi questo perché il generation lo sto spaccando ultimamente no loccare no ok sì convinto ok un attimo di riprendere la mano poi siamo a posto già se ne va ok fai con comodo sì un diablos uno dei mostri più stronzi di sto gioco cioè dei mostri rante in generale in realtà di sto gioco forse no spaccarli mi sa che non gli spacco nulla a lui perché con la spada lunga forse la coda riesco massimo sì saltata la live grossa F o sbaglio ok allora è saltato il mio telefono imbecille devo giusto ricordarmi la combo era con così sì sì ecco Cristo ok una cura fast una pozione dovrebbe bastare no però ok si fa a posto sì vai ora rifacciamo questo e vediamo se si fa un po' male il giusto ok che l'ho rotto ok boh che miss del cazzo che ho fatto questo fa male ok ok le mega sono qui a posto no aero non si fanno situazioni inappropriate al supremo niente di inappropriato l'ho solo chiamato un attimo un'esclamazione ecco non mi ricordo se in sto gioco ci sono i mega dash juice come cazzo si chiamano vabbè vedremo non lo farai e non l'hai fatto questo l'hai fatto però ok devo cotare tra un po' e se no gli faccio niente curami gatto per favore grazie ci sono ok quanto cazzo la devi cotare sta arma però ok si è stancato buono così ho finito le sonic quindi schivata fast a posto se ne va però l'abbiamo preso tanti auguri alberto grazie alice 40 minuti di cote per la fidatezza verde si rifacciamo fast a me che in realtà non mi ricordo manco a che punto sono arrivato perché sto gioco ero arrivato in i-rank ero hr55 tipo dove c'è il kirin temprato mi pare e poi si è formatata la ps4 e ho perso qualsiasi cosa quindi l'ho dovuto ricominciare poi l'ho ricominciato e l'ho droppato perché non c'avevo la minima voglia di rigiocarci sì una grossa f contando che l'ho preso al day one cioè ci ho giocato l'anno scorso era che è uscito o due anni fa boh comunque sì bravo parecchio tempo fa ecco fanculo l'ho preso proprio storto non puoi attaccarti col rampino no no perché non ho iceberg il rampino non esiste iceberg è il mio sogno bagnato ma non non ho soldi per prenderlo quindi per ora niente poi se riesco si fa la serie intera su quello e stiamo a posto sì sì ormai monster hunter si chiama iceberg in generale proprio anche quando lo avvio io si chiama iceberg su ps4 hanno proprio cambiato loro il nome del gioco perché la mega mi ha curato così poco vabbè non riesco salire di sopra sto stronzo ok sono finito sono finito bene ok perché non ho perso il buff del cibo oh sì madonna non ne ho piatti praticamente non ho piatti che mi danno la vita ecco perché ne avevo poca super f super f eh penso di sì a sto punto credo sia il feline purtroppo sono anche stato coglione perché non mi sono portato sì ho ancora 130 perché non mi sono portato l'arma con l'elemento giusto mi sono portato la prima arma che ho trovato perché sono un imbecille che se non sbaglio il diabolo si è debole a tono e chiaccio quindi qualcosa l'avrei potuto anche fare invece no semi di mondrag armatura non ne ho non non li ho craftati ai tempi lo sto proprio riprendendo stasera sto gioco eccoci non ho idea di dove siano i seghi non ricordo veramente niente mi ricordo giusto dove si trovano le pozioni l'erba e poi basta ok l'aglio ho fatto male eccolo 9 di critico rimbalzando poi bellissimo ok io dovrei cotare perché con la cotezza gialla non gli faccio niente ora mi arriva da sotto eccolo dritto dritto mi ha preso ok ci siamo e passa e passa la macchina misto mostro come dice il titolo della live ciao di picco la spallata vediamo vediamo se è così niente interrotto la smetti da andartene sotto terra per favore miscila non è divertente dovrei avere il lampo però se non sbaglio se c'ho le lampo no non ce le ho però c'è una trappola ora gliela metto lo spacco di botte tanto non mi va di catturarlo uno si sta un attimo fermo sto bastardo ok e urla ovviamente di nuovo si gli auguri me li hanno fatti me li hanno fatti il comando non è stato aggiornato perchè non lo può fare nessuno mi sa perchè dado mi pare che non c'è e marco se ne va di nuovo ne approfitto per cotare fast vediamo ok sempre lì a posto così mai mi ricordo che in sto gioco quando correvi non ti consumava stamina se non eri in fight non mi ricordo male no ah sta su lo stronzo ok niente ci sono ancora gli auguri ad alice ad epip non si può fare nulla non so se i mod possono cambiarlo il comando ma non credo niente auguri ad aio perchè domani c'è luca quindi niente finito si aia aia di nuovo sono morto no ero quasi finito però il gatto mi ha salvato la vita auguri barivecchia lo apprezzo ad epip gattino clutch mvp si vai ma non cade sto stronzo non è una volta che cadi arriva mi dai sta cazzo di cura niente non ce la fa sto gatto oh grazie grazie amichiro bene 22 di critico si numeroni incredibili ok dopo di lui mi sa che una farmata mi tocca farla che uomo lavora anche il giorno del suo compleanno hai visto non ho lavorato tutto il resto del mese però il compleanno si ogni volta mi prende quando faccio quella cazzo di mosso molto più facile sto diablos rispetto al solito ma non c'ho il danno proprio zero non riesco a fargli nulla credo meno che non sia mezzo morto ma non penso vediamo se riesco a salire lì sopra di nuovo niente oh finalmente con la cutezza gialla però almeno c'è caldo ok ah gli ho rotto il corno bene quindi qualcosa glielo sto facendo almeno ci provo e se ne va un stronzo di mare se ne andrà sotto adesso ho visto dei 25 si ho visto anche un 32 prima un 32 con l'affinità gialla non ho capito come però l'ho fatto senza critico eh ancora meglio quindi ma lui non si mette a dormire se lui se ne va lì dentro per dormire vabbè penso non ci andrà a mano bella bella certo che giocare senza le skip è una cosa assurda dipende se c'è l'arma giusta no conta questa qui ha l'affinità verde poi è una delle prime come ho passato questa giornata ha fatto fare almeno un fuccio no in realtà no tutto a posto tutto normale sì sì la cote si usa molto soprattutto se il mostro come il diablos è corazzato e soprattutto se l'arma ha il livello di acutezza basso perché sta qui sta a verde quindi subito dopo arriva giallo invece già se c'è l'acutezza blu sei più tranquillo poi dipende anche da quanta acutezza blu ma il gatto che cazzo sta facendo precisamente ah è morto il gatto è stunnato ok piedi massimo esperto due pitt zitto e l'ho fatto di nuovo ogni volta uguale non è possibile si è fermato io vado qui a posto e lui si ferma questa era la combo per evitare gli attacchi quella con R2 cerchio dice c'è da capire bene bene c'ho un botto perso la mano no non è per niente facile infatti no ma c'è una differenza assurda che sto notando un sacco tra i generations e questo qui proprio col cambio di engine ho cambiato parecchio il gameplay anche però sto zoppicando quindi sono contento dai ora se ne va nel nido forse no ah bene non male mi farei anche l'altro corno ma con la spada è un miracolo io ne ho fatto solo uno quindi va bene anche così vediamo se lo prende a posto il gatto sempre è un mago che mi cura ok se ne sta andando così vado a prendere la coda e poi la ammazziamo che poi non mi ricordo qui quei tranquillanti come funzionava ci sono le bombe tranquillanti o era tipo quella specie di roba che butti per terra sì sì R2 cerchio è questa qui aspetta questa metti la trappola due tranquillanti come sempre ok però tranquillanti non ce ne ho non c'ho manco la trappola va bene era giusto per capire quanto più vecchio sembra è infatti visto sembra molto più vecchio e più macchinoso ma infatti si nota molto quando giocai l'espansione era praticamente un gioco nuovo per quello la bramo con tutto il mio pene però è difficile prima o poi prima o poi dai vieni qua fare lo stupido però qui mi hai droppato la roba aspetta vai tutti tutti l'ho sentito ok ok perfetto sei stato proprio fermo cosa fai ah cazzo che se ne va nel muro vero fa di nuovo no ci ho provato una putezza gialla non faccio più un cazzo praticamente però qui si vai perché non ti prendi Iceborne perché non ho soldi Alice me lo regali se me lo regali lo prendi costa 40 euro no in realtà forse 30 boh vabbè siamo lì non ce li ho nuovo sub goal no ma riusciamo a stare arriva no proviamo eccolo eccolo no Alice ma c'è il goal della cartoumix cosa dici che cazzo è successo ah ecco cosa è successo ho finito le cure che palle va bene andiamo cambiamo di nuovo area e ti devo dire è veramente stupido cioè è venuto qui per andarsene di nuovo ci rendiamo conto ora lo guardo mentre si mette a dormire dai ecco c'ho le bond per caso no peccato no ma fino a quando vado all'accampamento tanto è mezzo morto non gli manca veramente niente se lo si fa anche cadere e poi questa qui dovrebbe essere la quest per salire di rank se non sbaglio non le lanciare lì lanciare per terra eccoci ok prende zero da fuoco lui cristo santo cristo santo di soccorso dentro praticamente finiscilo con la rete da cattura quale quale mi sa che è una roba di iceberg ecco ora mi dice di mangiare cioè ora mi fa mangiare cioè non ho più la vita di prima piatto mamma va bene va bene davvero lo catturo facciamo bene vediamo se c'è le trappole c'è da farmare c'è da farmare no ok è che non c'è i tranquillanti credo o si no non ce l'ho ma sei una donna no non penso non credo carne soporifera proiettili soporiferi dove cazzo sta la roba soporifera aspetta meganutrienti catalizzatore siero demoniaco mi sa che non l'ho mai craftata spera pomogeno non è non vedo niente qui forse spero soporifero si facciamo prima lo catturiamo mi prendo anche più roba no comunque simon non dovrei essere una matura si si due bastano due bastano queste qui sono quelle che butta direttamente per terra non si possono lanciare è vero lo slot 1 del menu radiale non non ce lo questa qui è la rete da cattura ma questo qui non era per gli animali piccolini due danni a botta vabbè ma mi pare difficile ucciderlo così allora la mettiamo qua così non lo prende lo facciamo così così svegliati svegliati bastardo vieni qua che cazzo vai vieni qua santi indio dai e scava a posto e non glielo volevo mettere addosso ancora si svegliava mi lanciava via con l'urlo gravissimo errore ho staccato fortissimo ora andiamo a fare andiamo a fare tubicadachi forse si è sentito immagina va bene tutta sta roba mi interessa tanto si 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 ah ho usato pure il ticket si giusto Alice ora lo faccio di nuovo con le cuffie subito ora c'è la cazzin mi sa si sono recati alla foresta antica si ora c'è la cazzin ti piace il cbt mi piace il cbt c sta per c b sta per t sta per vangelo no per ridere ehi sono ricercatore della scienza tu che si è giunto in cima alla vetta ah si è vero mi ricordo sta roba vabbè sta parlando del gigante lo zora magdalos senza la i apposta stendlio ah scienza non la vuole va bene si dobbiamo fare il mostro gigante ma adesso me lo fa fare lo zora magdalos mi sa di si mi sa che il gigante ti disintegra molto probabile infatti devo farmare un attimino a sto punto mi vado a fare lo dogaron e mi faccio il set dello dogaron e poi mi potenzio al massimo quello ok la nave quella ammazza draghi si no non ci vado dallo zora magdalos mi dispiace anzi no mi faccio il girros che col girros mi trovo bene no non ci vengo mi dispiace buona giornata usi altro della spada spadone un pochino una spadascia abbastanza poi martello qualche volta ma avevo poco su sto gioco mi divertiva la lancia fucile però ciao simu buonanotte c'è un bastardo lo sai si no vabbè per ridere sempre forgia carne di astra si si ce l'ho già una coppia da coppa ratalossa e ratia boh vabbè non c'ho voglia adesso mi diludi allora forgia armature miso monster va bene quella del radoban quant'è che faceva 126 il ner gigante fa drago di danno se non sbaglio no mi pare che il ner gigante non ce n'ha di alimenti difesa 156 questo qui mi piace diablos aspetta il giros 106 no 106 pochissimo quello del diablos non è male ma prima di farmarla devo fare altro o doggeron ti da critico si ratalos ti da attacco direttamente e mi sa che mi conviene fare il ratalos spero fare il ratalos così boh no facciamo prima il leghiana ci starebbe un botto veramente un sacco no allora mi faccio il giros così mi faccio un'armatura meglio di quella che c'è adesso oppure no vabbè vaffanculo andiamo a fare lo doggeron e vediamo come va lo doggeron è debole a mi faccio il set completo si così almeno sto a posto per un po' poi mi faccio la build storta o doggeron è debole a ghiaccio e tuono tuono dovrei avercela anche buona eccolo ok più oltre non c'ho manco le sfere armature si 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 vabbè vabbè amuleto vita c'ho quello di pesa forse mi conviene di più relazione nuova missione facoltativa ganjir rossangiana ok non è qui ma è qui lo doggeron no lui sta giù quindi facciamo prima così 5 16 va bene ora lo vado a cambiare che più che altro gli amuleti c'entrano un cazzo con gli amuleti di generations cioè lì c'è scritto ti danno boh tipo tot e basta poi li trovi li droppi lì un letto salute dovrebbe essere il primo tipo no no geologia possibile che non ce l'ho tuono vampa alluvione stasi che ho no non ce l'ho quindi niente ho mangiato no vabbè ora mangio quando arrivo lì no vabbè non è un problema con lo doggeron abbastanza morbido come mostro non c'ha tante parti corazzate ecco probabile probabile anche non li ricordo proprio ste cose qua devo mangiare aspetta ok attacco posto rasoio feline istruttore feline vabbè non so che cazzo faccio però ok no eccolo cominciamo bene però aspetta perché qui mi romperai i coglioni il gas per terra quindi facciamo così che è meglio allora no io non lo faccio da un botto non mi ricordo niente del suo moveset ok ok ti dà una calmata però sì velocissimo sì me lo ricordo ok anche quell'attacco lo ricordo bene mi ricordo mi ricordo anche che fa un sacco di danno quando tira le manate e ti mette il bleeding ok però con l'armatuono dovrei stare abbastanza tranquillo ok questo potrebbe essere un problema non mi ha messo il bleeding però ok dovrei iniziare a usare la spadascia ah sì anche la lama caricata usavo spesso su sto gioco ora che mi ricordo la lama caricata tra l'altro sbagliatissima proprio con un sacco di danni tutto compenetrato dio santo calma io che butto il baccello torce in acqua poi è un genio per me è finita padron ok ora se ne va ora corre fortissimo sparito alla velocità della luce io sono un coglione perché non ho preso le mega eh sì ho preso una null back a caso non ho preso le mega pozioni padron frodo sì va bene ne faremo a meno i buff di ice hanno anche effetto sul base nerf del tecnico buff del veleno non ne ho idea zero però penso di sì perché se gioca qualcuno che ha iceborne con uno che non ce l'ha dovrebbe trovarsi bene lo stesso ha rotto la zanna probabile la combo fast ora che sta fermo ok spaccato distrutto terminato ok non male non male eh peperosogoro dammi sto cura fast veloce veloce dio santo grazie ok questa sta andando decisamente meglio rispetto a prima purtroppo l'elemento sbagliato prima mi ha fottuto poco forte è venuta via la coda c'è ok ok Dovrei quotare però Vabbè dai Spero che ora va bene Pazzo malato Stavolta ho fatto malissimo Mi chiedo come mai Prima con la fumogena ha smesso di vedermi E adesso invece mi vede ancora Vabbè buona giornata Di quanti ori è andato no? Sì Quanto son belli loro Che cazzo se ne sta andando Facciamo così L'alveleniamo un attimino Forse No Per te Non prendi il loot della coda Mi sono scordato effettivamente Va bene Dopo se c'è Cosa a prendere Ma in teoria scapperà un'altra volta Quindi Tutto a posto Perché di solito Va nel nido Quando sta per morire Ok giù 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 Questa è Per ti Gio Questa è Questa bene Questa è Comunque hanno cambiato i particellari Di parecchio anche Perché tipo il particellare del veleno Non era assolutamente così Se si dico penetrarti però mi faresti un favore Eh si Che cazzo è? Ecco Niente non ce la faccio Fa un culo Quanti ne stai miss? Tutti li ho miss Oh Finalmente Vai 50 Quanti cazzo di line li sto facendo? Bene Niente È volato troppo Ok se ne va Niente Vabbè la coda mi sa che non la prendiamo Tanto mi interessa Quanto corre durissimo Sì ma infatti L'animazione mi ricordavo molto meglio rispetto a queste Ma decisamente è meglio Cazzo dovevo quotare mi stavo dimenticando Bene forse è la volta buona che ci muore Sta lì eccolo Eh Cristo I tasti della PSP Mi ricordo Ok Ok Ben Si Post Potrebbe essere un problema Ok no Tutto a posto Ok Sto zoppicando Buono così Posto per stare tranquilli Andiamo Qui si ferma? No infatti Ok quindi forse la coda La prendiamo Era qui no? Tipo Qua Eccolo A posto Vediamo se troviamo altre pietre Per terra Che potrebbero servire Mi sa proprio di no No mi sa che c'era un dietro E non l'ho preso Pietra no Pietra no Qui dovrebbero stare forse Va bene Chi se ne è in cura Fa niente Scendi 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 Muschio brillante Scusa aspetta eh Ma dove cazzo se ne è andato? Nella 13 La 13 è di qua Ah ok Quella che passa nel passaggino Facciamo qualche mega Eccola si Il nido Starà dormendo Quindi Ecco Ciao Morinix A posto A posto Ma finisci? Dai che ti manca pochissimo E' volato Cazzo è successo? Ah sta saltando sui muri E' come un coglione Ecco Cosa C'è Ok Morto Finito Cioè questo qui Non è durato un cazzo E' durato un quarto d'ora L'altro 40 minuti Che fattura di palle Veramente Torna Alla sala del raduno Che cazzo è la sala del raduno Adesso Vabbè Poretto Fatto pure il verso Che fanno i cani Quando li picchi Quando guaiscono E' quello il termine Guaire Si penso di se Ammazzare gli insetti Con le pietre E' sempre bello Va bene Io direi Possiamo anche chiudere qui Perché dovrei rifare lui All'infinito Ah la gathering hub L'hanno trattata così male Veramente Va bene Anche qui era caccia celeste Ma hanno cambiato forse Boh In sette grandi quanto cani Alberto li brucerei Beh si Effettivamente Si caccia celeste Che non c'entra molto Però Ci stava Secondo me Anche perché Celeste Guarda Sei in cielo Con la nave Boh Comunque Io direi Che la chiudiamo qui La live Perché dovrei rifare Lo dogaron all'infinito Per farmi il set Quindi Boh Ti paralizzano pure Sì Sono dei bastardi Quelli là I vespoidi Che poi tra l'altro qui Aspetta Prima di chiudere Qui ci sono Le missioni evento Giusto Cambiata anche la Ragazza qui No missione Eventi Ci sono tipo quelle di Come si chiama Di The V. May Cry No Di The Witcher C'erano anche Sì ok Le hanno rimesse tutte Troppe pagine Per non esserci Bambiscotto Qualsiasi cosa Sta spammando Alice è partita Comunque Buonanotte Ci vediamo domani Alle 22 Come sempre A meno che non ci sono Pomeridiane Mattutine Che vabbè Non esistono Ormai da tempo Quindi Buonanotte Grazie per essere passati Grazie per gli auguri Grazie per la resab A nessuno A me Quindi Ciao E a domani